E' loco! po' comprare esse i, po' toman colopi en la casa le digo guacha e lo canto è pagare la bomba e lo io qui l'amore non ho capire non ho capire per quanto Carrie dove vanno a comprare esse i pa' tomar colopi en la plaza vanno a 5p po' comprare esse i pa' tomar colopi en la plaza come andamon a salubi Ringrazio per il cartello Lì che lì che lì che lì che lì che buona Che lì che lì che lì che lì che lì che lì che sveglie Se avessi lì che lì che lì che lì che Erano le mie coni, non sempre mai vieno una foto Quindi non è una foto capace Che stava arian la Simone Che è stato fatto? Che è stato fatto in Chibical Il primo evento Il primo evento Il primo evento Un poco nervioso Però io conoscigo che mi piace Un po' con me Mirà con lo che mi piace Mi piace Lo stava passando? Che! No se escucha nada No se escucha nada La to' pasando bien Ahora con to' la to' pasando bien Bueno, ora vogliamo fare una cosa Una sabora, una sabora Bueno, parà A ver, parà, yo quiero conocer Quiero saber primero ¿Quién conoce al chico Playboy? ¿Y quién sabe la canción de Violeta? ¿Quién conoce a la chelita de caseros? ¿Quién no estuvo con la chelita de caseros? Vamos con ese 150p ¿Está listo? Estamos listo, estamos listos Ahora vamos a hacer como un concurso ¿Vamos a hacer ese concurso? Sí, es un concurso Se divide en tres, ¿no? Esto se divide bien en tres A ver, a ver Tiene que sacarse una foto con nosotros Vamos a sacar una foto con Snapchat acá Vamos a traer a cuántas A ver, cuál realidad Dile un número adentro ¿Cuál número adentro? No, está Vamos a pasar a no sé cuántos Está bien me parece Cuatro me parece perfecto a mí Más de cuatro Aaaaaaah! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!